Il risultato è quello di Malvin che abbiamo qui con noi alla mezza di Parigi, allora raccontaci un po' com'è andata. Com'è andata? Una mezza molto bella, molto partecipata a livello di ragazzi che corrono, a livello internazionale, più di 53.000 persone, direi soddisfatto anche se hai trovato un piccolo intoppo sul tempo che non è stato del nostro favorevole. Quanto hai impiegato? Io ho impiegato un'ora di 12.50, considerando il tempo di tutto con un piazzamento 34esimo assoluto, direi soddisfatto. Anche perché comunque stiamo parlando di un evento abbastanza grosso. Sì, un evento abbastanza grosso, come dicevo abbastanza partecipato, importante di tutto. Una bella soddisfazione personale per la società, anche per il mister stesso che mi allena, come mi prepara, sono soddisfatto. E con un aumento anche, no, per chi fa atletica è un po' un sogno poter partecipare. Chi fa atletica è un sogno, ma è un sogno veramente, un sogno sarebbe vincerla, però è impossibile perché facendo a livello agonistico, come faccio io, come fanno tanti altri, è già una soddisfazione molto importante, già partecipare a arrivare a questi bei plassiamenti. Prossimo appuntamento, qualche legarete qui intorno a noi, 5.000 in pista, 10.000 e l'estero se ne parla la prossima anno.